Oh mio Dio ragazzi, buongiorno a tutti e finalmente sto registrando dal computer, mamma mia, sono veramente emozionato la mia primissima volta con OBS, ragazzi, il programma totalmente gratuito, ve lo faccio solamente un attimo vedere, per ragazzi, perché ragazzi, se volete installarlo, sarà molto molto semplice, bastate che cercate ovviamente il suo sito, quindi scaricate il programma, è una roba, cioè, facilissima, cioè, io ci ho messo, vi giuro, dieci secondi di numero per scaricarlo, è il programma ovviamente più, più, diciamo, usato, tra tutti i programmi di registrazione, diciamo, insomma, ve lo consiglio un sacco, molto molto semplice, bastate che andate nel loro sito, insomma, cercate OBS, credo che dovrebbe venirvi fuori, oppure cercate su YouTube come registrare video dal computer, perché io in realtà l'ho scaricato tramite un link che ho uscito in un video, perché è molto molto più semplice, insomma, magari, non lo so, insomma, molto molto semplice, quindi ve lo soltanto dire, perché finalmente porterò video dal computer, che sarà un'opzione che in realtà io non farò, cioè, nel senso, non porterò molto spesso video dal computer, intanto chiudiamo un attimo, e chiudo un attimo OBS, perché principalmente voi sapete che io registrerò da Play, però, per esempio, l'ultimo video che avevo fatto, l'ultimo video che avevo fatto riguardante i video, insomma, quel video là del quiz, adesso lo porterò finalmente dal computer, io sono veramente emozionato, ragazzi, perché io quando ero piccola guardavo sti gamer che registravano dal computer, registravano dal computer, dicevo, ma come cavolo fanno, porca vacca, e quindi finalmente posso permettermi anche io di registrare, cioè, in realtà ho potuto permettermi anche quando ero piccolo, ma non capivo niente, non ci capivo niente, finalmente ho capito, poi ovviamente ci sono delle impostazioni avanzate, perché, tipo, tipo, qualità, io ho messo 1080p, però si può mettere anche in, tipo, HD, però HD è un casino. Iniziamo col vero e proprio video. Quindi questo qua praticamente è una specie di quiz, che bisogna indovinare la skin dall'ombra, cioè un'ombra, cioè l'ombra della skin, e non bisogna indovinarla, quindi iniziamo. Ok, ovviamente c'è una solita multa, un po', ok, probabilmente si sentirà bene, ma teoricamente dovrebbe sentirmi, si dovrebbe sentirmi bene. Ok, allora iniziamo, allora la primissima skin, eeeh, calma, calma, è la 5, è il numero 5, ragazzi, c'era anche in questi giorni nel negozio, ed esatto, era il numero 5, questa è la 6. Poi, ecco, inizia già un po' a farsi complicatina la situazione, potrei dire l'1, ma no, mi risulta l'1, però è l'unica alla fine, gli altri non, l'1, no, l'8. Ok, questa è la 3, vabbè, questa è la 3, però qui capo in di lì è inconfondibile. Cane, 9, carino, è un musica, come si chiama, è un balletto di forme, quindi vediamo, questo vabbè, si capisce dalla forma, si vede un po' le orecchiette, quindi l'è numero 4, si vede un po' dalla live industria, insomma. Pesce balestra, ragazzi, questo è inconfondibile, pesce balestra, la mia seconda skin preferita dopo, il pesce secco, questa vada potevo sbagliare, questa è veramente assurda. Vediamo, un funciona, ferma, 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 non è 7, ok, siamo a un errore, nella seconda che riusciamo a capirla, questa... ok questa faccia qua dovrebbe essere una cosa semplice ok non l'ho detto ci stavo per stoppare l'indio ma non l'ho detto vediamo questa oddio vuol sapere la mi sembra la macinella non è il sicuro potrebbe essere la 6 ok questa è quella unicchietta vediamo allora questa la 1 credo con quel cappuccio lì credo la 1 no sbagliato bene dai questo cappuccio è una quelle più facili adesso iniziamo con quelle un po' più complicate eeeh no fatta sta schienando un giornista però un giornista non c'è già come vuoi ti aspetta un giorno ragazzi sta schienando era quella sulla del playstation store sapete non era quella del playstation store eeeh la 12 la 12 12 12 12 12 let's go si si è quella di playstation store con la giacchettina blu non ricordo beh questo è questo no questo no ah è l'1 è la gelatina lì con quei cappellini la gelatina è bro si gelatina andiamo la mela dov'è la mela dai l'ho già riconosciuta questa esatto no la numero 9 non la mela il pesce era lì la numero 9 esatto scema che è la mela bisogna fuggatemi quel pesce è la numero 9 poi vediamo questa la 3 è il panda lì un po' con il panda in versione green con la screen esatto vai vai che è uscito in questi giorni l'investigatore tutta la vita però lotto si è lotto si si lotto lotto a me viene da dire perché è una faccia talmente gigantesca mi viene da dire la 1 ma solo per quella ragazzi ve lo dico dico la 1 perché solamente è perché è questa faccia gigantesca infatti non è la 1 questa è difficile si ma è però sono troppo difficile si si arriva scusami si si un buco a caso un buco a caso si si arriva dai ok questa potrebbe essere un po' più semplice fammi vedere un attimo quelli no non è brutus fammi vedere la 12 il 12 il 12 mi viene da dire l'unica mi viene da dire il 12 no porca prota ok questo è il 2 vabbè questo è Travis Scott vabbè questa è easy proprio 2 2 2 dai dal visto punto vabbè Travis Scott oddio questa aspetta la 10 la 10 la 10 andiamo e la 11 bravo mi do i complimenti ragazzi abbiamo fatto metà dei punti quei quei tanti punti che abbiamo fatto veramente nella fase 2 di 2 abbiamo fatti di punti e credo 2 se non erro 2 o 3 3 forse 2 non mi ricordo ragazzi vabbè non era molto facile ma se ne vado a cercare ok ragazzi praticamente questo video qua ci dà praticamente una dance e un balletto e noi dobbiamo divenere la musica questo ragazzi sarà molto molto difficile infatti ne farò pochissimi di punti ma che ma cosa ma stiamo scherzando ma che ne so è la 1 ma che vabbè vabbè questa la so la 6 la 6 questa la facilissima la 6 la 6 questa la so la 6 questa la so numero 6 questa è facilissima sì ma quelle che so sì ma piiii questa sveu ah beh sì ce l'ho anch'io aspetta com'è che usciva oddio è la 7 aspetta tipo oddio come era quelle che c'erano un pacchetto tipo non mi ricordo comunque la 7 non mi ricordo perché c'erano mi fa vedere ma che c'erano ma sempre della disco è vero c'erano un pacchetto la seconda volta io voglio dire la frase il frase dai il frase il frase mi voglio dire questo chism era esatto su me era facile perché c'era c'era il cattivo questo era una minima idea ragazzi ecco ho visto un attimo a 18 e appena si stoppa la musica stoppa anche il ballo secondo me era 18 ragazzi mamma mia fortuna che l'ho individuato bene quella 15 no no porca vacca 14 va vabbè questa è facilissima stile ninja 10 questa è facilissima questa è facilissima 10 stile ninja mi ricordo anche il nome stile ninja ti di 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 dé di 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 esatto questa è una ma si può individuare but갑ano ieri non mi si che appa la 5 forse 8 va bene quando la capivo sta qua 14 forse o la 15 o la 14 14 1 ok questa qui non ho che preso questo cuore vero 13 cuore vero vabbè questa non è cavolata pure presa per san valenza mi ricordo ti 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 è la 13 o è cavolata 2hz allora questa sicuramente è una musica lenta si potrebbe capire da questo cioè il balletto è un'altra 15 non è molto meglio che caccia di vedere a 11 l'11 no no dai l'avevo detto l'11 no Non c'è un topo! 5! Old school! cosa si? cosa si? perchè? 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 come si vuole volere? la 2 2 2 let's go oh no no chitarra non c'est bon una galassana 7 e il pesce secco signori non potevo sbagliare il mio fratello gemello ah no questo è il mio fratello gemello e il 12 il 12 questo l'avevo anche fatto avevo fatto anche un mail che avevo messo i miei amici su whatsapp e il 12 contagioso vabbè ragazzi siamo stati abbastanza bene alcune le abbiamo fatte allora mi avevo stupato molto c'era però ragazzi se no era veramente molto difficile le abbiamo fatte comunque una metà comunque le abbiamo fatte alcune le avevano anche impossibili dai e ma bisogna che ho fatto 15 su 15 ma che cavolo ok allora se ne dico veramente che andavo si no tutti 15 dai tutti 15 ma forse era uno scorso quiz che era facile magari eh allora vediamo un attimo vedere i commenti 15 su 15 15 su 15 sono l'unico forse sono l'unico forse che ne ha fatte 15 su 13 su 14 vabbè un prossimo video ciao ragazzi grazie grazie grazie